È morto da poco Matteo Messina Denaro, boss della mafia, che fino a qualche mese fa era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi del mondo. Stupore ha sollevato il fatto che, sebbene latitante, circolava liberamente nei paesi siciliani. Appare evidente che avesse protezioni molto in alto, che non possono essere che quelle della massoneria. Infatti, il principio che la legge è uguale per tutti, non vale per i massoni e i loro accoliti, come anche non vale per sionisti gesuiti e esponenti, in generale, del nuovo ordine mondiale. Tra l'altro si ricorda che prima dell'arresto di Messina Denaro, l'ex mafioso Baiardo, intervistato da Massimo Giletti, aveva profetizzato perfettamente questo arresto, in tutti i minimi dettagli, anticipando che era molto malato e che quindi si sarebbe fatto arrestare per questioni propagandistiche di governo. Imputato e condannato per molti reati dall'omicidio a reati economici, Matteo Messina Denaro non si è mai pentito. Ne ha rivelato mai nulla di particolarmente interessante. Si professò estraneo ad alcuni omicidi che destarono scalpore nel mondo, come ad esempio quello di un bambino che, dopo ucciso fu sciolto nell'acido, per punire il padre. L'uomo apparentemente tranquillo, ci lascia soprattutto un inquietante dubbio sui legami nei gruppi di potere, ad esempio tra Stato, massoneria, e mafia. Spetterà a Dio il giudizio finale su di lui. Riposi in pace.